Signore e signori, ecco a voi dall'America, o meglio dire da Catanzaro, lo skater del momento. Eccolo qui. Inizia con la sua esibizione. La vediamo all'opera, col suo skate. Un'ovazione, signore e signori. Lo vediamo partire con il suo skate. Ecco la sua esibizione. Si prepara, ecco. Un applauso ci vuole qua. Questo non lo batte nessuno. Troppo forte, ragazzi. Skate del momento 2010. Lo vediamo partire con l'evoluzione. Non si può vedere, signori. Non si può stare fermo con la telecamera. È troppo impossibile per lui. Cos'è impossibile, dell'altro mondo. Star lì dietro è una cosa impossibile. Tutto il buio. Tutto il buio. Ed ecco che si salta con l'ultimo finale. Rush. Wow, signore e signori. Volo. Si vola. E quando si vola, allacciamo le cinture. Rush. Rush. Skate del momento. Ce l'abbiamo solo noi. Signore impressionante Ora aspetteremo l'ultimo suo Volo Si sta preparando Manca davvero poco Troppo bello Finito ragazzi